E' bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Nicola e oggi siamo in un nuovo video Allora ragazzi oggi ho deciso di fare un bjsmr perchè non avevo niente da fare E ho deciso di fare questo video Allora, non sto giocando su fortnite perchè ho scoperto questo gioco che si chiama Darwin Project Che è un gioco molto carino perchè è simile a fortnite Ma non ci sono armi e si possono usare solo l'ascia che si ha e l'ascia che si ha e l'arco Allora ragazzi ci sono tre delle classi, scusatemi Io scelgo sempre grapple che è praticamente il rampino E qui adesso stiamo aspettando un attimo, ecco tra 4-5 secondi inizia il game E bisogna, si spawna molto casualmente e bisogna rompere questi E come posso dire il gioco è molto semplice in si Perchè tendo a premuto R1 si vede un po' quello che si possono migliorare E tramite le cose che ho preso, come si chiamano, aspettate, queste qui gialle Ecco quel tubicino giallo, possiamo migliorare qui E invece con il legno che si prende si possono fare le frecce, le trappole e il fuoco Il fuoco serve perchè in basso a sinistra, se vedete, ci sono sia la vita che quella rossa Che quella bianca, quella azzurrina Che è il calore che abbiamo Quando scende troppo bisogna mettere il fuoco perchè se no si potrebbe, incominciamo a prendere danno e poi si muore Allora, nel frattempo noi cerchiamo E la mappa è molto semplice perchè c'è sempre quella zona Però, come posso dire, tra poco si chiuderà una zona casualmente E bisogna andare nelle ultime Poi adesso siamo ancora a 10 Quindi non è che ne siamo, cioè la lobby è pure piccolissima perchè ne siamo a 10 Però molto carina Premendo le 1 si usa il rampino Adesso io sto andando alla caccia di diverse cose Comunque raga, fatemi sapere se vi piace che porto altri giochi dopo Fortnite E se ogni tanto alzo la voce, scusatemi Ma, seriamente, ieri ho visto un video di Matti il Biondo che faceva l'SMR E ho detto, no vabbè, lo voglio fare pure io Quindi se sto alzando troppo la voce, scusatemi E comunque, lasciate like, non so se già l'ho detto comunque E per i nuovi, iscrivetemi Poi lo posso portare ovviamente pure su Fortnite Ho poi scoperto anche, visto che in questo periodo volevo anche cambiare un po' il gioco Comunque è molto movimentato il gioco, non è monotono Cioè, un po' così ogni tanto, però È bellino Comunque, molto semplice, niente di che, però Non è ne fatto male, ne è fatto bene Allora, io adesso direi di Visto che ne abbiamo 4 di cose Ci facciamo 3 frecce E appena arriviamo a 40 del freddo Ci facciamo pure il Come si chiama? Il fuocerello Qui vediamo le persone Io dovrei andare verso di qui E verso di qua sempre Troviamo un nemico Quindi proviamo ad andare verso di lui Andiamo, 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 andiamo Andiamo, vediamo un po' così No, qua c'è roba Non fa niente No, direi Coming nuclear Che cos'è nuclear? Ho paura, quindi mi allontano Perché Nuke Non lo so se Non lo sapevo Io gioco solo da 2 giorni Questo gioco Solo che Fortunatamente Le persone che ci sono Non sono tanto forti E quindi Dovrei Cioè, è molto semplice giocare Infatti Credo che se miglioro Potrei essere Pure uno tra i più forti Tanto non ci gioca nessuno Comunque è molto Eccolo Ok, il fuoco Stiamo diventando Adesso mettiamo il fuoco E ci riscaldiamo Bisogna riscaldarsi Perché se no Poi si muore Non sono mai morto del freddo Quindi Paura What the fuck Raga, non la sapevo Sto fatto Che roba è La nuclear Non l'avevo mai vista Che cosa ci possiamo Mettere Io direi di migliorarci Sicuramente Un altro rampino Adesso abbiamo Due rampini E di migliorarci Il danno Dalla Dall'ascia Allora ragazzi Per cacciare L'arco Per cacciare l'arco Allora Bisogna premere Solo l'1 Per mirare E poi r2 Per sparare Scusate Mi salzo la voce Però non sono abituato A fare i video smr Comunque Credo che la vincerò Questa partita Perché non è molto Difficile vincerla Sono sempre online E non sono i bot Contro Però la gente Qui sono scappata Di casa Però se perdo Faccio una figura Di merda Comunque la posto Perché Mi piace Fare i video Mi sto pericolando Ragazzi Mi sto impegnando A fare i video Mi sto impegnando A fare i video Lì Un secondo Ok Mi sto impegnando A fare i video Perché voglio Come posso dire Migliorare nel canale E comunque Qui vediamo Che cosa ci dà Che cosa ci ha dato Una bomba fumogena Niente di che Rompiamo qui Quante ne abbiamo adesso Quattro ancora Io direi No Questa non Ok Ok Vediamo lì Vai Saliamo qui sopra Ok Questo non l'ho capito Cosa bisogna fare Però io Li miglioro sempre E quindi Raga Lo faccio Dai 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 Vediamo Ah si ci danno 150 Buonissimo Raga Adesso lo faccio sempre Non avevo capito bene Allora Io direi Sinceramente Di migliorarmi Oh 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 Ah no no Non è danno Raga Non sto prendendo danno Solo che Tra 50 secondi Se rimango qua Incomincio a togliere la safe Incomincio a venire la safe E il fatto che la safe qua Da quello che mi ricordo Prima ti toglie tutto il freddo Poi quando ti toglie tutto il freddo Rima Ti toglie 50 Di vita al secondo No al secondo Tipo ogni 2 secondi Fa 50 Poi ti toglie la vita Poi fa 50 Cioè quindi Che tipo sto Dove sta quel pallino Dove sta la safe Lì giù Ho vinto What Non lo sapevo raga Quello è morto dalla safe Ho vinto GG Vabbè raga Non lo sapevo Non avevo nemmeno visto Che stavo vincendo Vabbè raga Allora Per questo video è tutto Se vi è piaciuto Lasciate al like Iscrivetevi E da lì in questo video Tutto bella Comunque raga Fatemi sapere sempre nei commenti Se questo video Se mi avrebbe piaciuto E farà cagare Lo so Alzo la voce ogni tanto Però Vabbè Non fa niente E fatemi sapere Se lo devo portare in altri giochi O sempre su questo Darwin Project Vabbè Bella raga